Piero Gipardo e Stefano Nava anche oggi in vostra compagnia per raccontarvi le emozioni di questo match. Stai pronto Stefano? Prontissimo Pierre! Tirate fuori Popcorn! Mettetevi comodi sulla poltronna! Match sta per iniziare, noi siamo qui con voi! Ecco l'11 titolare del Villareal, si schiera inizialmente con un 4-4-2 piuttosto classico, modulo che nelle intenzioni del tecnico dovrebbe esagerare... C'è l'intervento di Pugno! Calcio di rigore! E sarà rigore! Subito rigore per me, è importante sfruttarlo però! Beh ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino, che ne pensi? Non c'è dubbio, ha commesso un fallo molto duro, forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Ci sta! Rushford! Forza Rushford! GAL! Il vantaggio della mia squadra, il quarto minuto spiazzato dal portiere della Real! importante ma bisogna essere cimici in questa partita, altrimenti sappiamo bene cosa succede! Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri! Bella, decisa, ferma questa conclusione, non ha lasciato scampo al portiere! Ed ecco... Barclay! Rushford! Si avvicina all'area! Pallone profondo, pericoloso! Attenzione sotto sotto! Sì, 2-0! Rete! Splendi da rete! Bene così! Siamo stato cimico, seconda occasione insegnato! Bene così! La rete di Rushford, doppietta per lui! Allora doppiato, adesso sono avanti 2-0! Bene! Niente da fare, gran recupero difensivo! Apre bene, ritesta! Guadagna metri verso l'area! Mario Gaspar! Castiglieco! Mario Gaspar! Si porta in mezzo! La rimette in mezzo! E il pallone entra! Aiaiaiaiaiai! Subito il gol! E anche loro la prima funzione insegnata e non ci voleva assolutamente il pallone! Proprio per nulla! I, Rushford, peccato! Uuuuh! Uuuuh! Ancora Rushford! Mamma mia che gol straordinario a livello campione! Trepletta in 25 minuti! Guardate che cosa ho fatto! Mamma mia! Golasso! Marcus Rushford! E adesso non prendiamo né alte perché... Parata! Parata! Con calma! Abbiamo tutto il tempo a disposizione! Teniamo palla con calma! Milner! Rushford! Ecco il buco per Oxlain-Chameran! Possiamo fare una buona azione! Oxlain-Chameran! Parte il traversone! E il gol! E il gol! E il gol! Fortunato! Ma è il gol! Grande tempismo! Grande stacco! Segno Anthony Martial! 4-1 al 45esimo! Importante! Chiuderla con questo parziale! La finitazione! Unico davvero! Palla messa in mezzo! Non è finita! Attenzione! Rushford! Martial! Ha spazio per andare! Lo salta di netto! Respinge il difensore! Bene così! Si aggiusta il pallone! Tutto pronto per il corner! Sceglie il tocco corto! Cerca il pallone profondo! Ancora chiuso! Calcio l'angolo ancora! Proviamo a metterlo in mezzo! Occhio al cross di Milner! Ecco il tiro! E il gol! E il gol! 5-1! Fortunato! Perché sinceramente di testa la voleva indistrere! Non è voluto l'angolo invece! È arrivato l'assist per Kimmel di passore centrale a segno! Anche la fortuna può parte di questa partita! E quindi è bene così! Ci vuole! Assolutamente passore l'assist! Mario Gaspar! Palla nuovamente in possesso! Maraglia Metri! Occhio al pallone filtrante! Il gol riduce lo svantaggio ma non cambia la sostanza del match! C'è ancora una montagna da scalare! Bella bella! A qualche passi devono pur cominciare! Anche se sono d'accordo con te! L'obiettivo rimonta! È finita! Vittoria Metta! Tutto si esiderà nell'ultima partita però! Ancora una volta! Come nella divisione 5! Anche per salvarsi stavolta! È necessario portare a casa i tre punti anche nell'ultima partita che giocheremo in casa! Alla prossima ragazzi! Ciao! Ciao!